E' stato il primo anno che l'associazione Energea ha creato questo premio Energea per la scrittura creativa dell'Egitto ed era aperto per tutte le età e quindi ho partecipato. Ho sempre voluto scrivere, ho sempre scritto ma non ho mai partecipato a nessun concorso, mi è sembrata un'occasione giusta per cominciare. Sono una delle cinque finaliste che vengono dall'Egitto e quindi ho preso l'opportunità, sono venuta qui a Matera, città bellissima tra l'altro che non vedevo da ragazzina e quindi sto seguendo questo corso. I professori sono molto bravi, gli argomenti trattati molto interessanti, danno uno stimolo in più a chi piace scrivere e quindi sono molto contenta di aver partecipato. L'organizzazione Energea è anche molto valida, si prestano tantissimo per qualsiasi cosa e speriamo che anche l'anno prossimo possiamo partecipare dall'Egitto.